ben ritrovati nel secondo giorno della depurazione metabolica è importante camminare vedete prima l'essere umano era immerso in questo verde era tutto così non esistevano le città e allora dobbiamo assolutamente camminare cercare un luogo immerso nella natura quanto più lontano possibile dalla città perché la città ci ricorda sempre molto stress l'asfalto allora ecco lì che devo comprare delle scarpe da ginnastica che riescano a tutire in qualche maniera i contraccolpi dell'asfalto e però il problema è che se iniziamo a fare delle corse invece delle corse quasi sul posto il classico jogging che fanno molte persone questi questo non è salutare non è salutare molte persone poi vanno verso infiammazioni delle cartilagini delle articolazioni le ginocchia le caviglie le anche insomma tutto questo mi porta delle problematiche ma se ci riflettiamo bene noi siamo dei grandi camminatori quindi l'essere umano era immerso nel verde alcuni di noi erano in montagna altri nelle giungle nei boschi come sono io in questo momento altri ancora vicino al mare fatto sta che camminavamo camminavamo tutto il giorno tutti i giorni questa è un'indicazione importante quindi la cosa interessante è se ieri mi hai seguito hai passeggiato anche passo svelto e ma oggi puoi camminare tranquillamente e domani potrai ripetere l'azione se invece immagino noi andiamo a correre e magari dovrai correre non potrai correre tutti i giorni perché poi acido lattico e poi creare problematiche a livello dei muscoli e delle articolazioni 40 90 minuti al giorno tutti i giorni una buona passeggiata per stare bene attivare tutto l'apparato gastro cardiovascolare e anche quello muscolare ti ha un po il metabolismo quindi che dirvi buona passeggiata a tutti poi possiamo inserire degli scatti ogni tanto se proprio vogliamo allenarci così come faceva l'uomo primitivo quindi l'uomo primitivo camminava tutto il giorno senza guardare al tempo togliamoci dall'ansia lo stress dei tempi della corsa delle prestazioni con gli amici in quanto tempo hai fatto questi chilometri questi sono tutte cose creano ansia creano stress dobbiamo liberarci dallo stress togliamoci dall'ansia altrimenti poi rischiamo di avere la pancia gonfia fate attenzione a questo anche se vi allenate anche se mangiate poco detto questo ci vediamo tra poco per gli esercizi anaerobici quindi un pochino di ginnastica pochino di esercizi da carico a livello muscolare questo per esempio per attivare il nostro metabolismo basale buona passeggiata almeno di 30 40 minuti massimo di 90 minuti fatelo tutti i giorni e noterete la differenza ciao ciao